Musica Dopo essere stati ultimati e consegnati i primi alloggi del comparto N di via Attila-Sallustro è cominciato il trasferimento dei nuclei familiari assegnatari del rione De Gasperi Il 30 marzo scorso erano stati eseguiti gli abbinamenti con un sorteggio pubblico alla presenza delle famiglie interessate che hanno così potuto lasciare gli alloggi precedentemente occupati in condizioni estremamente precarie In questi giorni quindi sono stati consegnati i primi 11 alloggi e rispettando un preciso calendario in questa prima fase entro il 29 di giugno si arriverà a occuparne 56 Stanno andando benissimo, stanno andando bene Finalmente abbiamo realizzato un sogno che da anni avevamo Sta funzionando tutto benissimo come pensavamo e ringraziamo il comune di Napoli che ci ha aiutato in tutto e le case sono grandi, molto grandi di come le avevamo le stiamo pulendo ma siamo contentissime e le faremo ancora Belli, grandissime e spaziose Mi trovo bene perché prima non avevo la stanzetta, adesso sì che lo Stiamo montando l'armadio, il letto Perché le persone veramente avevano il loro grande sogno E la stessa procedura sarà seguita per un altro centinaio di famiglie assegnatarie per le quali sono già in corso le verifiche sul possesso dei requisiti di legge Si rimuove una condizione di degrado e faticenza grave, insopportabile con le case nuove, con le procedure regolari con gli abbinamenti fatti con sorteggio con il lavoro di tutti i comparti del comune di Napoli senza spese aggiuntive Si dà, a mio modesto parere, un esempio di trasparenza di efficienza e di riscatto vero Chiaramente siamo agli onori della cronaca quando le cose non si fanno le diciamo tra di noi quando si fanno e questo è anche non piacevole per la vita vera della città Ma i cittadini lo sanno sanno che nessuno rimarrà indietro sanno che siamo per la legalità piena e quindi nel rispetto degli assegnatari ma siamo anche a fianco degli altri in difficoltà per ricostruire altrove questo rione visto che c'è la zona rossa che impedisce di proseguire qui le edificazioni ma in un altro contesto vi sarà spazio e possibilità per tutti di avere in un tempo neanche così lungo una casa nuova Di fronte abbiamo le 101 abitazioni per le quali nel corso del mese di luglio procederemo agli abbinamenti ciascuno vigilerà sulla sua casa sapendo che ogni cosa che è tolta alla collettività è tolta a se stesso ed in questo modo dialoghiamo in un contesto dove in passato si sono asportate caldaie si sono creati tumulti ci sono state intimazioni evidentemente c'è sempre possibilità di dialogo di collaborazione attiva di ricominciare da dove ci si era interrotti di ricominciare da dove ci si era interrotti